Rambo si è ritirato a vita privata, una vita non violenta, in un monastero. Ma un giorno deve imbracciare di nuovo il mitra. Il suo ex comandante, il colonnello Traumen, è stato preso prigioniero dai russi in Afghanistan. Rambo lo libera dopo aver fatto polpette di mezza armata rossa. Terzo capitolo delle avventure dell'eroe spacca tutto.